L'Austria fa bene a difendere i suoi confini, io non ho nulla da chiedere all'Austria, l'Austria fa bene a difendere i suoi confini come fanno la Spagna, la Francia, Ventimiglia, come fa Malta, come fa la Grecia, è la politica italiana che non difende i suoi cittadini, quindi io all'Austria non ho niente da chiedere, difendono i loro cittadini e fanno bene a farlo. Io me la prendo con la premiata ditta Renzi Alfano, che invece espone l'Italia ad essere punto di arrivo di chiunque al mondo, oggi sono usciti i dati, record di morti nel mar Mediterraneo nel 2014, 3419 immigrati hanno perso la vita nel mar Mediterraneo, sono 3419 morti sulle coscienze degli amici di Mare Nostro, perché più gente parte più gente muore.